Ave gente, sono Larus e qui su Wattila Total War Nell'ultima puntata abbiamo sconfitto principalmente ribelli e stiamo modernizzando le nostre città Stiamo praticamente finendo di ricostruire Salona, altri 11 turni faremo un Brug O Burg, che sarebbe comunque il Borgo E tra due turni faremo il Sobborgo invece a Virunum Una cosa di cui ho bisogno adesso è soldi Io ho bisogno di soldi per investire, per fare altri soldi Principalmente a Salona siccome ho del vino che è l'unica risorsa che ho al momento strategica Mi conviene magari un po' più puntare su quello e fare un vigneto successivamente Una volta poi dopo così riesco a fare tanti soldi e inizio anche un po' a colonizzare le nuove zone dell'Italia Ovviamente colonizzare non è che mi fa così tanto impazzire al momento Perché ovviamente se colonizzo le nuove zone praticamente apro nuove frontiere In particolare in Italia è la cosa migliore perché così posso andare a prendere Mediolanum e muovermi anche al sud Italia Tuttavia se tipo mi sposto nella zona dell'impero bizantino avrò un po' più di problemi Perché gli bizantini sono più potenti rispetto a quelli d'occidente Tuttavia il metodo più veloce per guadagnare soldi è razziare E qua ci sono dei tizi Li chiamerò tizi in questa zona qui E i ribelli romani praticamente E io posso guadagnare un po' di soldi razziando la loro città di Sofiane Prendere la città mi serve ben poco Potrei anche razziarla in teoria Fare una razza in modo che così praticamente i quadi non hanno più tanto spazio in cui colonizzare E espandersi Il che è una cosa abbastanza buona perché si stanno espandendo un po' dappertutto Hanno una città qui e stanno assediando anche Roma a quanto pare Quindi dobbiamo risolvere anche questi problemi Facciamo subito fine turno dunque Ok è nata una nuova figlia Figlia Quintila Credo che sia una figlia Fatemi vedere Quintila No questo qua è Teoda Ma non riesco a pronunciare i nomi Quintila Quintila Sei tu? Sei un figlio? Nomi impronunciabili comunque tutti quanti Ora muoviamo la nostra spia nella zona Che così riesco a vedere un po' dove Ah 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 vi ho beccati Ok qua c'è un generale Neo Funarius Ovviamente devo Trovare un modo per affrontare questa armata Senza dubbio posso posizionarmi qua vicino In modo che così praticamente qui dopo posso Attaccare l'armata senza problemi Con le mie due armate Sì senza dubbio si può fare una piccola battaglia qui Così praticamente riesco a distruggere subito le forze Dei separatisti romani Che così posso spostarmi successivamente Per assediare Sofiane Quindi partiamo subito in una battaglia Ok eccoci qui La nostra armata di rinforzo ovviamente arriverà dalle spalle Rispetto al nemico E qua c'è la nostra armata principale Preferisco mettere la mia armata in questa piccola valle In modo che così poi dopo posso muovere le unità Quelle un po' più da rissa Dietro la collina Che possono fare una carica migliore Le unità da rissa intendo Praticamente tutte quelle unità che possono fare grandi danni al corpo a corpo Che sono praticamente l'unità di cavalleria E anche di guerrieri goti Che sono veramente molto buoni I comitatensi Che sono lancieri comunque pesanti Abbastanza buoni Però non riescono a fare così tanto danno al corpo a corpo Cioè sanno il fatto loro Però sapete I guerrieri goti sono migliori Il mio generale ovviamente lo tengo con il corpo principale della mia armata La battaglia Quindi io voglio fare un'azione In cui mi sposterò in questa piccola conca E qua dietro la mia fanteria attaccherà I miei alleati arriveranno dalle spalle E spero che possano fare un bel lavoro ovviamente Vediamo vediamo Vogliamoci subito senza aspettare Perfetto Qua si vogliono spostare sulla collina E qua arrivo le mie unità invece di supporto dell'altra armata Perfetto Se c'è una nota veramente di merito di Attila Sono le mappe Il map designing è veramente veramente fatto molto bene Ed è una cosa che mi ha stupito abbastanza Perché quello di ROM 2 effettivamente era un po' pessimo Anzi più o meno un po' di tutti i Total War Non è che hanno mai fatto un gran che Solo che Su Per esempio mi pare che su Shogun 2 era veramente fatto male Io non è che mi ricordo tanto Però non è che mi ha fatto troppo impazzire L'unica cosa è che qui abbiamo un problema Ovvero Le unità Del nemico che si stanno spostando in questa zona Quindi Una delle scelte migliori potrebbe essere Spostarsi Direttamente qui Tanto Qua do anche riformare bene la Le truppe Io ho bisogno di truppe che Accerchino totalmente il nemico Qua però preferisco fare più che altro Un corpo d'armata Praticamente compatto e unito E non spostarmi troppo Ovviamente non correte perché La fatica è abbastanza importante Su Attila almeno Qui si può vedere che le truppe Si stancano abbastanza in fretta Qua ci sono i miei guerrieri gotti Guarda Ma sono bellissime Mi piacciono troppo Sono una delle mie unità preferite E qua inizio a comprire i primi arcieri Forse è meglio Fare un po' di attenzione E ritirarci un attimo Ovviamente Questi qua Non mi pare che abbiano Un grande range Se mettiamo in confronto Non fa vedere il range Strano Molto molto strano Ovviamente posso Fare subito un attacco Con i miei cacciatori germanici Perché così Riesco a distruggere subito Le unità di arcieri Che così praticamente Obbligo il nemico A muoversi dalla collina Dunque la grafica di Attila Cioè scusate 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 se io sono Di quelle persone Che dice Effettivamente la grafica In un gioco Conta O almeno Conta Quanto Conta il giusto Non è che L'unico aspetto di un gioco Ma è anche un aspetto importante È importante quanto Il gameplay È importante quanto Il map designing È importante quanto L'IA Basta vedere i giochi In maniera serrata E limitare i campi A compartimenti stagni Il gioco è tutto Non è solo gameplay Non è solo Grafica Non è solo map designing Nemmeno intelligenza artificiale Il gioco è tutto Muoviamoci un po' Intanto Spostiamoci in questa zona Preferisco sempre tenere Gli arcieri In modalità Allargata Ve l'avrò già spiegato Un po' di volte Perché voglio fare così Oddio Qua facciamo subito Un altro gruppo Di selezione Perché se no Non si capisce più nulla E preferisco subito Tenere le mie unità Di Come si chiamano Di comità tensi Subito dietro E i miei guerrieri goti Dovranno Passare per la piccola foresta E attaccare le spalle Qua intanto Siamo arrivati Praticamente In posizione Invece qua dietro Preferisco fare Una formazione Un po' diversa Tenere I lancieri davanti E I frombolieri dietro Ok Spariamo subito Con le unità Di arcieri Nostre Ah quella del nemico Così riusciamo subito A fare Qualche Perdita Una cosa che non capisco Di Attila È il fatto perché Hanno messo Così tanti effetti Particellari Tipo di Per Le unità Quando si muovono E cos'è a caso Oddio Oddio Mi son perso Carica di cavalleria In questa zona Ovviamente Devo stare fermo Stanno cercando Di eliminare Il nostro generale Dipendetelo Muoviamo le nostre unità Qua dietro Muoviamoci qua sopra Voi Tutti qua Principalmente mi servono Le unità Quelle un po' più importanti Più davanti Cioè praticamente Tutti questi qua Di Lanceri in difesa Non sono abbastanza serrate Nella formazione Però ci dobbiamo Accontentare di questo Spariamo con gli arcieri Agli altri arcieri Ovviamente Ok Qua ci sono I comitatensi Che entrano in carica Io aspetto un attimo Che il nemico Entri nello scontro Prima di Fare qualsiasi altra cosa Ovviamente I comitatensi E il nemico Stanno in formazione Allargata Per evitare i colpi Però Ciò non è una grandissima cosa Per il corpo a corpo E il nemico Perfetto Continuiamo ad andare avanti Spostiamo la cavalleria Sul fianco Quest'altro fianco Che così posso poi Dopo fare carica alle spalle Al nemico I nostri lancieri Sono buoni per Tenere le posizioni Tuttavia Non è che possono Tenerle in eterno Ci sa che le unità Del nemico Sono abbastanza Stanche Però le nostre unità Non possono Sopravvivere A lungo Nello scontro E questa è una cosa Da Da far subito notare E prenderne atto La cosa importante È magari Adesso Fermarsi E sparare Più che altro Alle guardie Palatine Però Voi non andate Troppo avanti Così si mettono Subito in formazione Allargata E dopo Spariamo Quest'altra unità Ovviamente Non muovetevi Troppo E con le mie unità Di cavalleria Preferisco subito Dannazione Andare contro Le unità di arcieri Che così almeno Riesco a farle Ritirare verso Le mie unità Le mie unità Però da questo fianco Sono molto Stanche E Non hanno troppe Possibilità Di vincere Uno scontro Qui adesso Che ho spaventato Le unità del nemico Preferisco attaccare Subito alle spalle Il resto Delle truppe Qua arrivano Le altre unità Del nemico Dovrei fare Un po' attenzione Qua sto vincendo Contro il generale Che è una grandissima cosa E spostiamo E spostiamo la cavalleria Un po' via Da questa posizione Che è abbastanza scomoda E muoviamo Le nostre unità Lungo tutto Il fianco Perfetto Qua ci sono Qua ci sono dei picchieri Bisogna fare Un po' attenzione A queste unità Infatti preferisco Un attimo Che tutti i lanciatori Facciano fuoco Su queste unità Che sono quelle Un po' più Pericolose Qua sto Trattenendo Il nemico Nello scontro Infatti sto Vincendo Il generale Nemico è morto Il che è una grande notizia Così abbiamo liberato Un po' di truppe In questa zona La cavalleria Mi può servire In questa zona Adesso Che adesso è libera Perfetto Ok qua ci sono ritirate Le unità Il nemico Grazie Alle Le azioni Che ho fatto Su quel fianco Purtroppo Però qui abbiamo Perso un po' Nello scontro E facciamo subito Ritirare i nostri Le aceri Che non possono vincere Mettiamo dentro Il nostro generale Il nostro generale Non può fare un granché Però utilizzo Utilizzo subito L'abilità Corvo Che praticamente Ho non so che Abilità Paura Che serve comunque Funzionale Per far ritirare Le truppe Del nemico Perfetto Qui andiamo Nello scontro Anche E qua abbiamo Stravinto Una cosa Molto molto buona Le unità Del nemico Ormai sono Irrotta E abbiamo Anche Ucciso Un generale Nella battaglia Il che è una cosa Molto molto buona Vittoria Preferisco Fermarmi qui Non proseguire Nello scontro Abbiamo ucciso Un bel po' Di unità Del nemico E Prima di andare avanti Voglio riformare Un po' Le truppe Riorganizzarle bene Per poi Fare una nuova Invasione Un po' più Compatta Perché ovviamente Mi sa che le mie truppe Non possono resistere Un assedio Ok Vittoria Decisivissima Ok Abbiamo ucciso Un bel po' Di unità Il nemico Tuttavia Ne rimangono Ancora un paio In vita Preferisco Uccidere il nemico Intanto A noi Importa Ben poco E ora Vediamo un po' Potrei però fare subito Un'altra battaglia Perché qui Mi posso dare supporto Forse Sì possiamo attaccare Ancora una volta Il nemico Così abbiamo più possibilità Di vincere un altro scontro Tuttavia Preferirei Automatizzare Qui Direi di fare Abbastanza aggressiva Perderò alcune Truppe Nello scontro Però Poco importa Ormai Sì abbiamo perso 70 uomini E abbiamo ucciso Tutta l'armata Il nemico Fantastico Ok Questa armata qui Ha anche aumentato Di grado No il generale Ha aumentato Di grado Fantastico E ci serve Subito Senti Così E così E così Possiamo fare Dopo sentinella Qua Spostarsi subito Nel territorio Alleato E anche tu Così Praticamente Possiamo Rimettere a posto Le nostre truppe E riassestarle Prima di Proseguire In altri scontri Sofiane E qui Vediamo un po' Se si sa qualcosa Che cosa c'è dentro Ci sono un po' Di legioni E un po' Di comitatenzi Ovviamente Non è proprio Sguarnita la città Per questo motivo Bisogna fare un po' Di attenzione Prima di proseguire Un altro assedio Dunque Facciamo Fine turno E abbiamo Tantissimo cibo Una cosa fantastica Ok Faccio Fine turno Ah no Prima c'è bisogno Di un'abilità Da assegnare Al governatore Direi giudice Di livello 2 Che va più che bene E fine turno Io dico che Questi separatisti romani Hanno ben poco Ben poco Da vantarsene Ovviamente Avere una città qui Che può essere presa Dai quadri Che i quadri Stanno diventando Abbastanza potenti Non è che mi Farà allegrare Un gran che Preferisco Saccheggiare La loro città E poi dopo Razziarla Mi dispiace Ma io dico di no Oltretutto così Riesco anche a danneggiare Un po' L'economia Dei quadri Mi dispiace Veramente tanto Ma no Stanno soffrendo Oltretutto la fame In quella zona Muoviamoci subito Stanno anche arrivando Gli illirici Che è una cosa abbastanza buona Cioè non è che Vi fanno né caldo né freddo Gli illirici E abbiamo incontrato Una fazione L'Africa Dove sta l'Africa? Sta qui l'Africa Grande Africa Perfetto Ora Ovviamente Qua fa un po' Freddino E non è una grande cosa Io Sto qui fermo Intanto Qua si può fare un vigneto Purtroppo no Dobbiamo aspettare ancora un po' Dobbiamo avere altri soldi Per fare un vigneto E qua tuttavia Possiamo fare Una mandra di bestiame Ciò nonostante Il Ad Aquileia La salute non è troppo alta E Quindi preferisco Prima Colonizzare altre zone Fare Opere sanitarie Prima di poter Fare altri edifici Nella zona Tanto Un nostro Un nostro Leader è diventato Non apprezzato Saprax Però è diventato È già abbastanza vecchio E c'è Virunum Che ha Costruito il suo borgo Finalmente Quindi Facciamo Fine turno Ok È morto Saprax Meno male Beh meno male Era un gran generale E mettiamo Agibun Che intanto Ha già qualche abita Qui e là Perfetto Intanto abbiamo perso Un po' di cose Per il logoramento E Ah Avete distrutto I Quelli soffiani Peccato Perché io Potevo estorcergli Un po' di denaro Potevo fare Qualche cosa interessante Però comunque È già un bene Che hanno razziato la zona Sarebbe stato peggio Se l'avessero presa Facciamo Vigneto Intanto E Muoviamoci Muoviamoci qui Detto questo La nostra spia Può tornare Nelle nostre case E I galli hanno cambiato Religione Sono diventati cristiani Latini Che è una grande cosa Seguono la retta via E Detto questo Qua Quattro turni Il vigneto Otto turni Il brug E Bene Qua Il livello di crescita Sta aumentando Questa zona qui Un po' bassino E A Venezia È abbastanza alto Si 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 sa Si sa si sa Si sa Detto questo Dovrei anche fare una flotta Prima o poi È una cosa che dovrei Tenere a mente E qua abbiamo Due imbarcaderi commerciali Magari potrei anche Convertire questo edificio In Imbarcadero militare Probabilmente All'aquileia Mi serve forse di più Un imbarcadero militare Infatti quando avrò Un po' di soldi Forse mi conviene Costruire questo Solo che L'imbarcadero commerciale Mi dà un po' più di soldi Per il commercio Forse al momento Che non ho troppi soldi Conviene tenere L'imbarcadero commerciale Intanto non ho Bisogno vitale Di controllare Il mare adriatico Perché praticamente Noi controlliamo Gli unici porti Nel mare adriatico Tutto il resto è razziato Quindi non è che Abbiamo troppi problemi Sotto questo punto di vista Se successivamente Ci sono fazioni Come vandali O impero romano d'oriente Che diventano abbastanza potenti Ovviamente questo Diventa un bel problema Bisogna considerare Perciò I grotugni Finalmente Non vi va Proprio Una cosa Che vi dà fastidio Fantastico Qualcuno Con cui commerciare Chiedo solo questo Nessuno che vuole Commerciare L'Illiria Ci provo proprio No Non voglio nemmeno Un po' di un'aggressione Proviamo un commerciale No Mi sa che L'Illiria Potrebbe essere La nostra prossima preda Ovviamente Andare verso L'Illiria È qualcosa Di un po' Rischioso Tanto Vediamo con l'Africa Andare comunque Contro l'Illiria È sempre qualcosa Un po' Un po' Rischioso Perché Apriamo veramente Il fronte A troppe A troppe A troppe persone Tipo i marcomanni I lugi E i quadi Stessi Che comunque Sono in questa zona Tuttavia Andando qui a nord Ci sono delle risorse Non indifferenti Tipo qua Ci sono le gemme Il legname Tuttavia In Italia Ci dovrebbero essere Altre risorse Interessanti Io preferisco Al momento Espandermi in Italia Per esempio A Verona C'era olive Genova Marmo E poi a Roma È una sede Patriarcale Spero che Non si mettono A razziare In Roma I quadi Perché Se no Veramente Mi incazzo Faccio Fine turno Ok Eccoci qui Dunque In Venezia Ci sarà un'altra rivolta Ma questo qua Credo che sia Una delle cose Più certe Che c'è al mondo A Salona Si comportano bene L'ordine pubblico È buono E Sì sì Mi piacciono Mi piacciono Ok E sempre controllando Il commercio Non è che cambia molto Le relazioni Con le altre fazioni Tuttavia Inizio Pian piano Fare più soldi Che è una grande cosa Qui Ancora Due Tre turni Per fare vigneto Sette turni Per fare il borgo O il bru O come chiamarlo Non lo so Sinceramente E vediamo un po' La religione cristiana Latina aumenta Tuttavia anche la cristiana greca È abbastanza potente Il tengrismo è Praticamente una Somma insignificante Detto quest'altro Ci conviene Magari considerare Seriamente Un'eventuale Invasione Un'eventuale Ecolonizzazione Di Di Venezia Perché Cioè di Venezia Di Della zona Del Veneto Perché così Praticamente Posso aprire Un nuovo fronte In Italia Adesso Credo di essere Abbastanza pronto Dopo aver fatto Tutte queste riforme Economiche Che tra poco Finito il Brug E il Vigneto Potrò finalmente Guadagnare un po' Di soldi Veramente un po' Tanti E oltretutto Aumenta anche L'ordine pubblico Civo Tutte queste cose belle Quindi siamo messi Abbastanza bene Direi che per questa Puntata è tutto Votate Commentate Ci sentiamo alla prossima Ciao